Bentornati su MyFootballGersy, quella che vedete è la terza maglia del Bocah Junior per la nuova stagione, la 2023, in edizione FAN. FAN. La maglia non è niente male, indossata acquista un qualcosa in più che in foto secondo me non rende. Nella mia classifica prende 4 stelle, mi piace tanto questa colorazione e questo motivo che è stato creato. Il costo lo vedete qui sopra, sballorditivo, incredibile, non voglio aggiungere altro, ognuno di voi faccia i propri ragionamenti. Qua sotto in descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo che avete visto prima diventa ancora più vantaggioso. Ora vi lascio alla parte finale, prima però lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. A voi non costa niente iscrivervi, ma a noi permette di avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!